Ciao, sono Arturo Brachetti. In tutti questi anni ho messo impegno e perseveranza per seguire i miei sogni e nel mio cammino ho incontrato i Giuseppini del Murrialdo, che da 150 anni accolgono in un ambiente educativo di eccellenza bambini e giovani in difficoltà e li accompagnano verso l'autonomia. Con tanti piccoli gesti possiamo insieme contribuire alle attività di cui beneficiano ogni anno migliaia di persone in Italia. Con poco puoi fare molto. Dona